Buongiorno e bentrovati. Buon martedì, 8 marzo. Siamo nella prima settimana di Quaresima. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro Rita Ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù diceva ai Suoi discepoli Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che a essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Iniziando il discorso della montagna, il Signore ci rende consapevoli della nostra dignità. Noi siamo sale della terra, noi siamo luce del mondo, perché siamo discepoli di Cristo, perché siamo figli di Dio. È una dignità straordinaria che ci è donata nel battesimo. Occorre però che corrispondiamo a questa dignità, che la nostra vita sia degna di questa chiamata alla santità che il Signore ci ha donato. Sale della terra. Dobbiamo dare il sapore della giustizia e dell'amore al mondo. E se perdiamo il sapore, a null'altro serve, dice Gesù, il sale che non sa di nulla, che essere gettato via e calpestato. Ahimè, quante volte la gira dei cristiani non ha il gusto del regno di Dio. E poi luce del mondo, la luce fatta per risplendere, come la città che si vede da lontano, perché è in cima alla montagna. Così si devono vedere le nostre opere buone, ma non per il gusto di farsi vedere, ma perché possano rendere gloria al Padre che è nei cieli. Chiediamo davvero la grazia di operare sempre il bene per poter risplendere della luce del Vangelo. Che le nostre azioni, i nostri pensieri, i nostri desideri siano illuminati dalla luce dello Spirito Santo e che il nostro fare il bene sia una benedizione per il mondo in cui viviamo. Diventiamo operatori di pace per essere veramente chiamati figli di Dio. Compiamo opere di luce ricordando che ciò sarà possibile solo se seguiremo da vicino Gesù, che è la luce del mondo. Lui infatti ha detto Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Preghiamo gli uni per gli altri. Preghiamo per la pace. Buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.